Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Continuo a far discutere la posizione davvero curiosa e surreale a tratti assunta dalla scrittrice Susanna Tamaro contro Verga, niente poco di meno che contro Verga, uno dei giganti della letteratura italiana, l'autore dei Malavoglia, di Mastro Don Gesuald, poi di Novelle Memorabili, un autore che fa parte del nostro patrimonio culturale e che giustamente, sottolineo fin da subito, giustamente viene fatto almeno per ora leggere nelle scuole. Ebbene Susanna Tamaro ha detto che ora di farla finita è ora di porre una fine a questa abitudine consolidata di far leggere Verga nelle scuole. Secondo la Tamaro è giunto il momento quindi di non far leggere più Verga perché evidentemente è un autore fuori moda, è un autore che non va più letto nelle scuole. Ora, è una tesi francamente poco condivisibile e stupisce che provenga da Susanna Tamaro, tra l'altro una donna di grande cultura, una lettrice e scrittrice, ricorderete senz'altro il suo best seller, come lo chiamano gli anglofoni, Va dove ti porta il cuore. Insomma, non ci stupiremo se questa tesi provenisse da chi ha in uggia la letteratura e le umane littere. Invece proviene proprio da Susanna Tamaro che con questa tesi sicuramente se voleva destare un dibattito lo ha fatto, ci è riuscita, ma non si tratta di un dibattito da cui esce particolarmente nobilitata a mio giudizio nelle sue posizioni, perché io ritengo francamente che Verga, e sono in buona compagnia ma questo poco conta, che Verga sia un gigante della nostra letteratura e che sia importante farlo leggere agli studenti almeno quanto Manzoni o Leopardi, Dante Alighieri e Petrarca, ecco, sono quegli autori rinunciabili del nostro canone italiano che debbono continuare a essere letti e studiati. Da Verga gli studenti apprendono quella che viene definita la vena realistica, il verismo, l'idea in qualche modo di una raffigurazione reale della vita in tutte le sue contraddizioni, che dire poi del tema squisitamente verghiano della roba, l'attaccamento spietato per le cose che Mastro Don Gesualdo, il protagonista della roba appunto, hanno per le cose materiali. Insomma, direi che bisognerebbe continuare a far leggere Verga agli studenti, anzi se possibile farlo leggere anche di più perché è una fonte inesauribile di insegnamenti ed è un canone, un gigante del canone europeo e italiano e quindi più che obbliarlo bisognerebbe potenziarne la memoria e farlo leggere ancora di più agli studenti, a ciò che apprendano il gusto della lettura e della letteratura e si avvicinino a un gigante del nostro canone italiano. Davvero curiosa e non condivisibile in questo caso la tesi di Susanna Tamaro.